Premio internazionale Limena Art. La Camera di Commercio presenta la terza edizione della prestigiosa rassegna d'arte contemporanea tra le novità, la sezione dedicata a Mimmo Rotella. Al via la terza edizione del Premio Internazionale Limena Art. Il prossimo venerdì 16 dicembre alle ore 17 la mostra d'arte contemporanea proposta dalla Camera di Commercio di Vibo Valencia per lanciare un'immagine positiva della città, della provincia e dell'intera regione aprirà i battenti ancora una volta nello storico Palazzo Enrico Gagliardi, nel centro storico della città. Questa mattina alla Camera di Commercio la presentazione ufficiale dell'evento nel corso di una conferenza stampa presenziata dal commissario dell'ente Michele Rico, dal direttore artistico del Premio Giorgio di Genova, dall'assessore regionale alle attività produttive Antonio Stefano Caridi, all'assessore comunale al turismo Pasquale Lagamba, al notaio Rocco Guglielmo, presidente della fondazione Mimmo Rotella e da Rosanna Caputo per la sopraintendenza ai beni storici artistici ed etno-antropologici della Calabria. Il premio sotto la collaudata direzione artistica del professor di Genova, forte del successo e dei consensi delle due annualità precedenti cresce ancora. Anche quest'anno, ampliando la partnership, il numero degli artisti partecipanti agli spazi espositivi e ai settori che caratterizzano la mostra, per un'offerta sempre più varia, interessante e attrattiva.